Siamo felici che abbiamo rispettato i tempi perché abbiamo creato delle difficoltà alle famiglie nel mese di maggio e nel mese di ottobre i ragazzi uscivano alle ore 13 senza la mezza, andiamo a accorciare di mezza giornata, ma questo sacrificio è stato ben ripagato per i lavori che abbiamo fatto e noi avevamo promesso che riaprivamo il primo di novembre e il primo di novembre riapriamo. I ragazzi torneranno giorno 4, però abbiamo rispettato questo importante impegno che avevamo preso con la collettività di Tortoletta. Il 275 mila euro che è un finanziamento PNRR, quindi siamo veramente orgogliosi di essere rientrati in quella gradatoria e quindi aver permesso di finanziare un intervento che è davvero importante, che si è concluso e quindi ci sarà di nuovo la riapertura della mensa. I tempi sono stati veramente ristretti, lo dico perché ci eravamo impegnati ovviamente a concludere il 4 di novembre iniziando i lavori il primo di giugno e questo è stato fatto, quindi la soddisfazione è veramente doppia. Sì, quello di garantire ai nostri bambini una qualità migliore nella relazione. È stato un progetto che abbiamo voluto tanto, che ha portato dei disagi sicuramente alle famiglie nel periodo da maggio a oggi, però lunedì ripartiremo con un servizio rinnovato che andrà sicuramente a migliorare la qualità del servizio.